Ai piedi della fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana c'è l'Osteria delle Verrucole un luogo dove pranzare, fare uno spuntino e trascorrere una straordinaria serata degustando prodotti tipici sapientemente cucinati gli antipasti, primi piatti, ottima carne e i dolci della casa sono alcune delle proposte gastronomiche ma anche pizza cotta nel forno a legna L'Osteria delle Verrucole, storia, tradizione e tipicità Grazie